Una sette giorni di iniziative rivolte ai ragazzi di età compresa tra i 6 e 13 anni si rinnova l'appuntamento con il festival della cultura creativa giunto alla quarta edizione. È un festival ormai che sta crescendo, si sta accreditando e ormai siamo presenti in quasi tutta Italia, 50 città grandi e piccole che coinvolgeranno 20 mila ragazzi e bambini su un tema come il viaggio, un viaggio fantastico nelle opere d'arte, un viaggio nei libri, questo per sviluppare la grevità di tutti quanti. Ben 75 eventi in programma in 50 città, la manifestazione organizzata dalle banche italiane con il coordinamento dell'ABI punta a stimolare creatività e pensiero critico tra gli studenti. All'interno delle città i luoghi coinvolti sono ancora più numerosi e in ciascuna delle serie si tengono attività di varia natura, laboratori, workshop, mostre, spettacoli legati a un tema specifico. Il tema scelto per il 2017 è quello del viaggio, filo conduttore di tutte le attività previste sul territorio. Si va dalle mostre ai laboratori senza dimenticare teatro e musica. Ci aspettiamo ovviamente partecipazione ma da parte dei ragazzi quando affrontano questi temi che solleticano la loro curiosità la risposta è sempre altissima e coinvolgente. Macro, Maxi, Palazzo De Carolis, Explora, Istituto Via Valente e Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea questi i luoghi in cui sono concentrati gli eventi pensati per i giovani della capitale. L'obiettivo è coinvolgere almeno 20.000 ragazzi su tutto il territorio per avvicinarli al mondo della cultura e dimostrare che la banca può anche essere un tramite verso i percorsi culturali. Una scommessa su chi domani dovrà rendere migliore il paese si spera in un confronto costruttivo.